Ciao a tutti ragazzi, oggi per la rubrica degli assaggi siamo ai fornelli e sto cucinando il Mad Pirate Toast che è stato rinominato dai ragazzi di Viaggio col Tubo come Occhio del Pirata. Vi lascio il link alla loro ricetta nel box informazioni anche in una scheda da qualche parte. Ciao, ci vediamo più tardi, quando è pronto! Ciao a tutti! E adesso assaggiamo. Buonissimo! Pollici in su ai ragazzi di Viaggio col Tubo e anche a questo video, condividetelo con loro e con i vostri amici e provate a fare questa ricetta. Ciao! 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 Ciao!